Un commissario per l'adeguamento sismico delle A24 e A25. Il Consiglio di Stato, con una sentenza del 20 febbraio scorso, ha accolto il ricorso di strada dei parchi contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha quindi nominato un commissario ad acta per definire il PEF, il Piano Economico Finanziario, nel quale dovrà rientrare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade. Il Consiglio di Stato, infatti, aveva posto l'obbligo per il Ministero dei Trasporti di approvare il PEF entro ottobre 2019, ma ciò non è mai avvenuto. La Commissione europea aveva chiesto per due volte chiarimenti all'Italia a proposito del Piano Economico Finanziario, ma non essendo giunta alcuna risposta dal Governo, a fine gennaio la Commissione ha chiuso la procedura, facendo sfumare 3 miliardi e 100 milioni di finanziamenti europei. La Commissione ha però dichiarato di rimanere disponibile, qualora l'Italia dovesse farsi viva. Il mancato dialogo, inevitabilmente fatto allungare le procedure, è ritardato i lavori di messa in sicurezza. Da qui la decisione del Consiglio di Stato di nominare un commissario, quale organo straordinario, per definire il PEF e giungere rapidamente alla conclusione del procedimento. La società del gruppo Toto ha accolto con estremo favore la decisione dei giudici. Secondo Strada dei Parchi, questa sentenza consentirà alla società di avere un interlocutore esecutivo con cui poter definire il PEF. Secondo la legge, infatti, all'ente concessionario spetta solo la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria, e quindi non sarà di certo Strada dei Parchi a pagare i lavori. Soddisfazione anche da parte del sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Umberto D'Annuntis. Si avvia a conclusione un iter che ha mostrato, ha dichiarato D'Annuntis, tutta l'incapacità del governo a gestire la messa in sicurezza delle A24 e A25 in un'area di grave rischio sismico.